E' tornato in sella all'amministrazione comunale Alberto Gusmeroli ed è partito subito il galoppo con gli eventi di questa grande stagione. Possiamo riassumere così a grandi linee quello che ci sarà da Roma quest'estate? Sì, volevamo a tutti i costi tornare ad avere eventi per tutte le età e per tutti i gusti. Quindi partiamo dal grande evento in Rocca, l'Antonella Ruggero, la grande Antonella Ruggero dei Mattia Bazar, per poi arrivare al liscio, al latino americano, al tributo agli Abba, dalla De Gregori come cover. Ma abbiamo anche eventi per bambini, poi abbiamo il grande aiuto della Proloco, dell'Ascom, della Croce Rossa, faremo i fuochi piromusicali, la traversata, i giovedì musicali in Piazza del Popolo, la sfilata di moda che torna ad Arona il 14 di luglio. Insomma, tanti tanti motivi per venire ad Arona, è un'offerta per tutte le età e per tutti i gusti. Diciamo che questo è un lancio per quanto riguarda anche il turismo e l'attrazione ad Arona, che i commercianti chiedono che si facciano iniziative e si facciano eventi. Assolutamente, noi abbiamo voluto apposta in pochissimi giorni preparare questo bellissimo programma, proprio perché Arona può essere catalizzatore di eventi di tutto il territorio.